Aspetta, è arrivato in alcune fatiche, ecco non lì, si è ribaltato, si è affocato. Non manca ogni mezz'ora. Non è che volevo prendere l'altra. Non lo ricordo, non sono cari, è quello che si vede. Non è che si è. Che è? Vado a vedere se è morto lo scherpolo, ora lo vicino alla nostra macchina. Allora, la testa in giù, con la sua palletta di cacca, lui se ne va passeggiando in mezzo alla strada e lui se ne rotola. Lui si fa una bella indigestina oggi. Il scarabèo schercorale. Guarda, è bello. E' che qua è pieno. E' pieno di scarabèi schercorale. Ognuno con la sua palletta. Eccolo qua. Qui c'è un altro. Questo si è disunito. Però adesso riprende il suo esercizio. Qui ce ne sono altri. Ognuno con la sua palletta. Perché non è che si aiuta a una vicenda. Ognuno c'è la sua. Qui c'è un altro. Anche questa è bella grossa di palla. Ciccio, vai di là, se no ti acciaccano. E qui passano le macchie. Ma si è salvato per miracolo. Questo è il cimitero degli scarabèi sercorari. E' certo, attraverso la strada.